siamo al 2 di dicembre di bala non ha ancora firmato adesso ogni sera ogni sera aprirò il mio video in questa maniera conteggiando i giorni che mancano praticamente poi a gennaio perché se siamo al 2 di dicembre ne mancano 29 mancano 29 giorni a gennaio e di bala non ha ancora firmato il rinnovo basta di bala basta perché tra l'altro dopo il video di oggi sono aumentati invece gli estimatori di di bala hanno vinto gli estimatori nel video precedente avevano vinto coloro che si erano scagliati contro di bala bello mi piace perché c'è c'è discussione perché ognuno espone le proprie ragioni c'è chi lo considera un calciatore finito una palla al piede c'è chi invece lo considera una fuori classe che può comunque trascinare la juve fuori dal dai problemi dalle problematiche e via dicendo si evitino i processi sommari l'ha detto gravina si evitino i processi sommari è vero giusto giusto è verissimo si evita i processi sommari anche perché c'è una discreta esperienza di processi sommari poi sfociati in un processo di sentimento popolare anche di sentimento popolare diciamo così ma io continuo a dire ragazzi che non percepisco tutto questo procedimento sommari ma veramente c'è ma non riesco a c'è se devo fare un parallelo con calciopoli al di là del fatto che si trattano situazioni completamente diverse ma se devo fare un parallelo con calciopoli quando tutti se avevano identificato nella juventus il mostro a sette teste a nove code quello che è nonostante non ci fosse solo quel mostro in questo caso in questo caso non vedo la juve considerata mostro perché perché questa volta c'è la puntualizzazione del fatto che se sono stati fatti degli affari a specchio la juve li ha fatti anche con altre società quindi e se si parla di altri affari di altre situazioni 62 mi sembra 42 la juve ce ne saranno 20 ovviamente ascritti ad altre società e quindi non vedo tutto questo accadimento ma lo dico sinceramente non è ironia la mia non vedo tutto questo accadimento a livello mediatico a livello di tifoserie nei confronti della juventus no mi si chiede di rispondere a bonolis non fa il mio mestiere fa l'intrattenitore bravissimo l'intrattenitore quindi non è un giornalista sportivo quindi io non mi permetto non mi tocca cioè non rientra nella sfera delle persone delle quali mi va di commentare presa di posizione o altro quindi niente sui processi sommari e quindi bisogna aspettare il corso il corso della giustizia è stato interrogato anche manna responsabile under 23 perché anche lì 42 operazioni insomma rientrano alcune movimentazioni legate all'under 23 ai giovani eccetera però ragazzi è inutile cioè non non qui non si nulla no è vero sono state fatte le plusvalenze state fatte qui si tratta di capire come ha precisato bene tutto sport oggi quale qual è la strada che poi verrà presa ecco qual è il discorso ragazzi qual è il discorso che in questo caso essendoci intercettazioni può saltare fuori qualche cosa che alla giustizia sportiva interessa o vuole interessare e che viene catturato come elemento probatorio comunque da attenzionare per intervenire ecco cioè magari cose del tutto irrilevanti per la giustizia ordinaria possono diventare il contenuto delle intercettazioni non lo conosciamo conosciamo solo due o tre frasi che mi siano delle delle cose totalmente insignificanti anche dal punto di vista penale perché un dirigente che dice pensavamo di arrivare a livelli del real madrid comunque peccato insomma e sognare è stato bellissimo credo che non abbia nessuna rilevanza penale ecco però ovviamente aspettiamo perché naturalmente qui stiamo stiamo ragionando sul nulla perché in sostanza non conosciamo il contenuto ecco allora il rischio qual è se viene provato che la juventus aveva c'è la responsabilità oggettiva praticamente la juventus nella falsificazione contabile eccetera può incorrere in una sanzione di penalizzazione poi ovviamente lì ci sono i vari gradi di giudizio se invece si tratta solo di illecito amministrativo lì è una forte multa si può arrivare attraverso il patteggiamento da parte della procura federale e quindi si risolve tutto però è tutto monco c'è tutto un discorso monco questo perché non conosciamo il contenuto di eventuali intercettazioni quindi in questo momento argomentando sulla base di quello che c'è più in là di così non si può andare più in là di così non si può andare monitoreremo ovviamente ogni giorno se ci è stato sono stati giorni l'intervista di ibraimovic a correre della sera a tutto tondo e vedo che ha avuto un grande risalto la sua frase sugli scudetti vinti dalla juventus e poi tolti da calciopoli proprio campeggiava in prima pagina no forse no forse campeggiavano altre cose ma la sua lite con materazzi delle sorelle ma quella lì no vabbè li fa parte dello strascico lo strascico di quegli anni lì c'è nel senso la c'è la juve è stata condannata e quindi guai a dare risalto ad un giocatore che dice di aver sudato i suoi scudetti sul campo perché ragazzi al di là di tutto comunque la juve sul campo li ha vinti e i giocatori sono fatti un mazzo così per vincere quegli scudetti e quindi al di là di tutto però va bene parliamo di questo 4 2 3 1 in chiusura è la svolta lo diranno le prossime partite lo diranno le prossime partite allora fu la svolta la juve ci arrivò a cardiff mi avete fatto notare vero ci arrivò fino a cardiff con quel modulo lì poi a cardiff vabbè saltò tutto come ben sapete come ben ricorderete perché la squadra proprio crollò psicologicamente nell'intervallo dopo aver raggiunto un pareggio proprio crollò psicologicamente nell'intervallo e e vabbè vediamo no mi intriga mi intriga mi intriga perché in questi casi ecco vedete un allenatore come agisce innanzitutto sulla sulla base degli uomini che ha a disposizione c'era una chiesa a parte che ce lo vedo benissimo anche lui nel 4 2 3 1 nei tre dietro alla punta ce lo vedo perfettamente ma cosa che strada va a cercare l'allenatore in questi casi no il famoso marinaio che guida la nave fuori dalla tempesta a parte che tutti devono essere marinai in questo momento tutti indistintamente chi gioca chi non gioca chi va in tribuna chi in panchina prova la strada dello stimolo cioè cambiare tattica può essere uno stimolo nuovo per i calciatori come sempre poi ci sono quelli più contenti quelli meno contenti ma comunque provano qualcosa di nuovo ecco e quindi al suo tempo con questa con questo cambiamento allegri trovò la via d'uscita vinse lo scudetto vinse la coppa italia andò a cardiff ma non vinse e vediamo vediamo i giocatori sono diversi però mi intriga molto mi intriga molto questo 4 2 3 1 ci vuole il puntero forte da davanti vediamo vediamo un po mancano due giorni a juve genoa vorrei vedere in campo caio george vorrei vedere adesso faccio gli appelli ma se mi butto sugli appelli vorrei vedere in campo caio george almeno mezz'ora e dai speriamo ciao ragazzi al prossimo video iscrivetevi al canale e ringrazio gli amici della region store che mi hanno consentito di fare questo video con un telefonino ricondizionato c'è il link trovate anche uno sconto ciao